buongiorno a tutti da paolo d'ambra di investire punto biz e bentornati un'altra puntata di turbo daily ieri abbiamo assistito alla pubblicazione dei dati ufficiali in merito all'inflazione negli stati uniti d'america un dato che comunque resta invariato rispetto al mese precedente quindi non c'è stata una particolare appunto variazione dei dei prezzi al consumo ovviamente tutti quanti sappiamo qual è la politica monetaria già impostata dal presidente jaron powell della fed appunto che si considera comunque si dichiara comunque molto flessibile nei confronti anche del tetto massimo dell'inflazione e aveva dichiarato che avrebbe eventualmente potuto aumentare i tassi di interesse se l'inflazione avesse superato il tetto del 2 per cento al momento quello che è quello che resta insomma la politica monetaria della dell'america è mantenere comunque i tassi di interesse allo stesso livello quindi invariati e quindi bassi che poi tra l'altro è riflette anche quelle che sono le aspettative di investitori in merito al rendimento del dollaro statunitense però andiamo a vedere nel particolare queste aspettative degli investitori come si possono riflettere sul cambio euro dollaro quindi spostiamoci un attimo sul grafico così posso mostrarvi i livelli operativi che ho ipotizzato per oggi livello d'ingresso molto vicino al prezzo al valore attuale quindi a 1 e 21 uno stop loss sotto i minimi dei giorni precedenti quindi a 1 19 e 50 e un take profit appena sotto i massimi delle giornate precedenti quindi a 1 e 23 ho ovviamente ipotizzato un trend del rialzo perché consideriamo che il cambio euro dollaro è fortemente impostato in un trend rialzista è vero che abbiamo assistito dei ritracciamenti durante le settimane precedenti però comunque mi aspetto che da questi livelli il prezzo scusate il cambio possa continuare a salire almeno fino al nostro target ovviamente mi aspetto mi posso aspettare anche che una volta violato il nostro livello d'ingresso il valore del cambio euro dollaro posso andare almeno a testare il nostro supporto dinamico quindi mi aspetto ovviamente una discesa almeno fino a 1 e 25 o 1 e 20 massimo per poi attenderci un pullback direi di andare quindi sul sito di bmp paribas per mostrarvi il certificato il certificato che ho scelto per voi termina col codice e p2 quindi con una leva modesta a 10 e 37 uno strike impostato a 1 e 10 una distanza dal knock out del 9 per cento circa e un prezzo lettera che al momento quota 0 96 e 2 andiamo quindi subito sulla piattaforma operativa per eseguire il nostro trade al prezzo impostato a 0 94 centitemi quindi ripeto molto vicino al prezzo di mercato i pezzi da inserire per un controvalore di mille euro e per un margine di mille euro e sono di mille e sessanta tre andiamo a seguire il nostro trade e facciamo un breve recap dell'operazione odierna il sottostante abbiamo detto che il cambio euro dollaro per una strategia long l'ingresso 1 e 21 stop loss 1 19 5 e un target infine a 1 e 23 per oggi è tutto io come sempre vi saluto vi do appuntamento direttamente a domani per un recap settimanale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti